Torna alla scalinata San Francesco dopo quattro anni il premio teatrale nazionale popolare Michele Abbate dedicato al tanto amato sindaco di Caltanissetta Michele Abbate tragicamente scomparso nel 1999 è giunto alla sua nona edizione. Il premio teatrale nazionale popolare Michele Abbate nasce per mettere a confronto le realtà teatrali regionali e nazionali e vuole mantenere sempre viva la figura del sindaco Michele Abbate. L'evento è organizzato dal Teatro Stabile Nisseno, compagnia di cui faceva parte il compianto sindaco insieme al comune di Caltanissetta e con la direzione artistica di Giuseppe Speciale. Il concorso teatrale avrà inizio questa sera a giovedì 31 agosto e si concluderà giovedì 7 settembre con spettacoli che inizieranno alle ore 21. Le cinque compagnie partecipanti sono state selezionate dagli organizzatori in base al loro curriculum e al lavoro teatrale scelto per il concorso. Una giuria tecnica composta da professionisti, esperti nel campo teatrale, appassionati, amanti del teatro giudicherà le compagnie teatrali in concorso e i loro attori. Nella serata finale saranno attribuiti i premi miglior attore caratterista, miglior attrice caratterista, miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista, migliore regia e migliore spettacolo del concorso che riceverà il premio teatrale nazionale popolare Michele Abbate. Anche quest'anno verrà assegnato il premio della critica messo in palio dalla Young's Club di Caltanistetta. Giovedì 31 agosto si esibirà la compagnia Carol di Catania e presenterà su Antonant alla Civita. Sabato 2 settembre la compagnia Crimisa di Ciro Marina mettere in scena l'apparenza in Ganna. Domenica 3 settembre la compagnia Quelli della Parnasso di Campobello di Licata porterà in scena è solo un equivoco. Lunedì 4 settembre la compagnia Agli Amici del Teatro di Chiara Montegolfi proporrà un sogno divino. Martedì 5 settembre la compagnia Teatro del Peru di Comiso metterà in scena il malato immaginario. Mercoledì 6 settembre si esibirà fuori concorso il Teatro Stabile Nisseno con il nuovo spettacolo dal titolo Concerto al Cabaret con musica dal vivo Cabaret Poesia. Giovedì 7 settembre si terrà la serata finale di gala durante la quale verranno consegnati i premi assegnati dalla giuria. La serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti che intratterranno il pubblico alternandosi tra un riconoscimento e l'altro.